Dottoressa Yolanda Lotta, con questa sagra della salsiccia, il piacere di stare insieme, la partecipazione popolare, la socializzazione. L'eporano e anche enogastronomia. Questa serata, come si evince dalla gente che è venuta a trovarci, è soddisfatta perché abbiamo diversificato nella nostra programmazione. Abbiamo altri appuntamenti, questa serata era anche in collaborazione con il club Alfisti, dove il ricavato della serata è andata ai bambini ospedalizzati. Continueremo, il 7 e l'8 abbiamo una manifestazione con Vivi il Medioevo, sempre con l'associazione Il Castello e vi dico restate a Leporano perché ce ne saranno tante belle... E intanto stasera ci gustiamo della buona salsiccia con della buona musica. Sì, come vedi l'associazione Il Castello ha anche fatto sì che la serata fosse alietata da balli e pizzica. Un ringraziamento va all'associazione Il Castello e a tutti i ragazzi che si stanno impegnando affinché tutti siano soddisfatti di questa bellissima serata.